Alla fine quello sacrificato sull'altare della riforma è lei? Sembra di sì, sembra, sembra. Vedremo. C'è una legge regionale che ha tracciato un percorso. Io devo dire che sono sinceramente contento del fatto che l'intero corpo dei dipendenti della biblioteca sia stato salvaguardato. È una bella squadra che abbiamo messo in piedi nel corso degli ultimi 10-15 anni e che quindi rimane coesa. Amarezza? No, amarezza, niente. Nei fatti, come dire, mi sento licenziato per aver operato bene, credo. Ma è la pubblica amministrazione, non è che conta la qualità, ci prevalgono altre questioni. In questo caso è una questione di cassa, sembra, perché non hanno i soldi per potermi assumere. E quindi mi auguro solo di poter continuare a fare quello che so fare, che faccio da 35 anni, cioè il direttore di biblioteca, o comunque interessarmi di strutture e di servizi culturali. Cosa posso dire? Certo, è un po' strano. Ecco, io non mi metterei nelle mani di un chirurgo che mi deve operare al cuore, sapendo che è stato fino a ieri un ottimo ortopedico. E io sto rischiando, come dire, questa è la metafora, probabilmente mi ritroverò a fare il dirigente amministrativo, pur non avendo fatto quel concorso, non avendo competenze al riguardo, avendo altre competenze, però sembra che la volontà sia quella di dare un posto. Cosa si immagina diventerà questa biblioteca? Io mi auguro che il gruppo dei dipendenti, i bibliotecari, continuino ad essere coesi e continuino ad esercitare l'attività di bibliotecario con scienza e coscienza, così come lo hanno fatto in questi anni. Io credo che, se posso dire il lascito, è questo. E quindi mi auguro che la cosa continui a funzionare come ha funzionato finora. D'altra parte, non esistono, come dire, delle nomine in eterno, voglio dire. Quindi si gira e la regione ha deciso che è arrivato il turno di qualche altro. Mi sembra una cosa lecita, normale. Posso, come dire, essere amareggiato sul fatto che nessuno abbia ritenuto di dirmelo magari in anticipo. L'ho dovuto apprendere, come dire, dagli altri, però tutto è normale. Succede anche con gli avvisi di garanzia ormai. Succede anche con gli avvisi di garanzia ormai.